Sempre su Radio DJ, siamo al limite perché alle 19 termina questa fiera. Però c'è tempo anche domani. Però c'è anche domani, come dice la Sara, dovremmo avere al telefono Ramona che ce ne parla. Ciao Ramona! Ciao! Ciao, benvenuta. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del 4Live, una fiera di fumetti, di cosplay e di divertimento. E perché è una versione 2.0? Perché è la seconda edizione che facciamo. E ride, e lei se la ride. Perché è il personaggio dei fumetti anche lei un po'. Io leggo i fumetti e faccio cosplay. Io sono sia da parte dell'organizzazione che dalla parte del cosplay, perché comunque mi vesto anch'io. Cioè mi travesco anch'io. E da cosa sei vestita, mascherata, oggi? Allora, oggi praticamente farò un personaggio che si chiama Stai. E qui è un fumetto horror, perché è questa la nostra specializzazione. Mi divertirò anche io, perché poi dopo la cena si va a divertire. Ok. Domani dalle 9, le 19, il sito, prima di salutarti Ramona? Ah, il sito, la fiera di Forlì, è la fiera di Forlì. Chiunque voglia venire, è la fiera di Forlì. È già ubriaca, secondo me. Complettamente. Ciao. Ciao Ramona. Ciao, domani. Ciao. Ciao. UiJ, il weekend di Radio DJ. Delicious.